Benvenuti all'angolo di Pagine d'Autore, una rubrica per entrare nel mondo dei libri. Uno è tutto nero e in mezzo al nero c'è questo bambino, capelli scurissimi che quasi non si vede, soltanto gli occhi scintillano un po' e sta lì al buio, trattiene il fiato, cerca quasi di non respirare, ha tutte e due le mani sulla bocca. Sta lì e aspetta, non c'è nessun suono, soltanto il suo respiro fracassante coperto dalle manine. Poi pianissimo una mano la mette a terra e ancora non succede niente e allora mette anche l'altra, ora sono tutte e due giù su una superficie ruvida e comincia a trascinarsi in avanti silenzioso e invisibile. Tiene la testa bassa, i riflessi degli occhi trabalano nel buio, si ferma di nuovo, quasi subito e si rimette a sedere. Lentamente le mani ritornano una sulla bocca, l'altra vicino alle scarpe e adesso si sente qualche rumore molto lontano. Forse il vento che muove qualcosa, sì, speriamo che è il vento. Gabriele prende un respiro più rumoroso degli altri, come se non gli importasse, come se questo respiro fosse necessario, come se valesse la pena rischiare solo per questo respiro. Dalla bocca tira dentro aria e coraggio e comincia a sollevare il braccio. Pier Lorenzo Pisano scrive Il buio non fa paura. Pier Lorenzo Pisano è regista e autore di teatro e di cinema, diplomato in regia presso il Centro Sperimentale di Roma. Il suo cortometraggio d'esordio, così in terra, è stato selezionato in concorso al 71esimo Festival di Cane e in oltre 50 festival internazionali. I suoi testi teatrali sono stati tradotti in moltissime lingue e rappresentati in teatri e festival europei. Ha vinto numerosissimi premi. Per NN Editore ha pubblicato Il buio non fa paura, tra l'altro selezionato nella cinquina della sesta edizione del premio Leggo quindi sono. Per Rissaggiatore ha pubblicato Carbonio, mentre per Enaudi, nella collana collezione di teatro, ha pubblicato Per il tuo bene Semidei. Attualmente è artista associato al Piccolo Teatro di Milano. Il buio non fa paura è una favola nera e allo stesso tempo moderna, arcaica, cruda, sognante, sensoriale e cinematografica sul dolore della perdita e sulla magia dei desideri. Il protagonista è Gabriele, è un bambino che vive in una piccola casa di montagna con i suoi due fratelli e con la sua mamma e il suo papà. I tre piccoli crescono spensierati attraverso giochi, corse nei campi, fino a quando una sera la mamma va nella stalla per prendere del latte per Gabriele e non fa più ritorno. Ma che cosa è accaduto alla mamma dei tre piccoli? Mistero. È stata inghiottita nel buio nero e atroce. Intanto si rompe questo equilibrio all'interno della famiglia e cresce sempre di più la paura perché nel frattempo si aggira una bestia nel bosco. Il papà dice non andate nel bosco, ma troppo tardi perché Gabriele una sera si perde nel bosco mentre segue il padre che va alla ricerca della bestia. Ma poi ci torna e ci ritorna nel bosco perché in quella bestia vede la sua mamma. Infatti dice perché è la cosa più bella del mondo pensare che la mamma è ancora viva e ha bisogno di lui. Purtroppo noi grandi a volte non ascoltiamo i piccoli, non sappiamo ascoltare i piccoli e ci perdiamo nel vuoto dei nostri pensieri. Questo libro l'ho letto con un profondo respiro, che è una parola che ritorna spesso nelle pagine, quasi a suggerire che dobbiamo fermarci, afferrare gli attimi della nostra vita, sia belli che brutti. Perché poi alla fine e in fondo ne usciamo sempre più forti. E Pier Lorenzo Pisano accompagna il lettore assecondando questo respiro perché usa delle parole molto delicate, semplici, misurate e coraggiose, proprio come in una favola. E allora buona lettura, con il buio non fa paura di Pier Lorenzo Pisano e se volete seguitemi sul mio blog www.pagineedautore.it oppure scrivetemi alla mia mail o ancora mi trovate sui social Facebook e Instagram. Buona lettura. Buona lettura.